Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Di questa natura che è un fatto incostituzionale e noi faremo ricorsi, non staremo zitti, tuteleremo tutte le persone perché questa qui è folle, insisto, stanno facendo cassa con quelli che sono più poveri, con quelli che hanno lavorato, con quelli che si sono fatti il mazzo in questi anni. E qua io però le vengo contro perché le dico che sulle...